la chiesa è la comunione dei santi nell'originale latino l'espressione comunio santorum evoca tre livelli di significato in primo luogo essa sta a dire la partecipazione all'unico santo lo spirito santificatore in secondo luogo poiché questa comunione si compie attraverso l'ascolto della parola di dio e la partecipazione ai sacramenti la chiesa è comunione alle realtà sante infine i battezzati arricchiti dalla varietà dei doni dello spirito orientati all'utilità comune costituiscono la comunione dei santi il popolo delle persone raggiunte contagiate dal divino consolatore nella sua espressione storica la comunione dei santi si esprime in questo popolo di battezzati corresponsabili della comunione del servizio e aperti alle sorprese del dio che viene in forza del battesimo il cristiano è configurato a cristo nello spirito a gloria del padre è chiamato a riconoscere ed accogliere i doni che il signore gli ha fatto questi doni vengono detti carismi perché sono gratuiti frutto della grazia della libertà cioè della fantasia dello spirito da lui elargiti con sovrabbondante ricchezza e rivolti alla crescita dell'intero corpo di cristo a ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito per l'utilità comune prima corinzi 12 7 perciò nessun battezzato ha diritto al disimpegno perché ognuno è per la sua parte dotato di carismi da vivere nel servizio e nella comunione nessuno ha diritto alla divisione perché i carismi vengono dall'unico signore e sono orientati alla costruzione dell'unico corpo che è la chiesa nessuno ha diritto alla stasi o alla nostalgia del passato perché lo spirito è sempre vivo ed operante è la novità di dio il signore del tempo futuro le consegue lo stile di una chiesa aperta allo spirito e alle sue meraviglie sempre impegnata nella vittoria sulla tragica resistenza del peccato personale e sociale essa deve essere docile nel discernimento dei doni del signore specialmente in coloro che hanno ricevuto il carisma proprio del discernimento o del coordinamento dei carismi i misteri ordinati non spengete lo spirito non disprezzate le profezie esaminate ogni cosa ritenete ciò che è buono prima tessalonicesi 5 19 21 questa apertura al nuovo di dio deve essere accompagnata da un profondo senso di responsabilità se tutti hanno ricevuto lo spirito tutti devono comunicarlo impegnandosi in vista della crescita della chiesa nella comunione e nel servizio la chiesa tuttavia esprime la comunione dei santi non solo nel senso di coloro che sono santificati nel battesimo e continuamente ricorrono alle sorgenti della grazia per divenire ciò che sono divenuti nell'acqua della salvezza ma anche nel senso di quelli che hanno già compiuto il loro esodo senza ritorno e vivono ora nella gioia della luce intramontabile di dio ai pellegrini nel tempo la comunione dei santi già presente nella gloria è di modello e di aiuto e poiché sempre nuovamente abbiamo bisogno di questo modello e di questo aiuto la chiesa non si stanca di offrirci nei santi che proclama quello di cui abbiamo bisogno i santi sono i compagni di strada che fanno bello il cammino perché esperti in umanità come noi sono ormai già esperti della pace futura e sanno meglio guidarci a dio varie sono le motivazioni per cui la chiesa proclama e venera i santi la prima è la motivazione teologica se la gloria di dio e l'uomo vivente cioè l'uomo pienamente realizzato secondo la volontà dell'eterno amore riconoscere il pieno compimento della vita e dell'amore in una creatura umana pur fragile e limitata significa confessare le meraviglie del signore la seconda motivazione è di carattere antropologico il santo dimostra come la visione di dio sia la vita dell'uomo rivela cioè come la vita nutrita dalla grazia apra all'esistenza umana straordinarie potenzialità consentendo alla persona di realizzare in pienezza il desiderio del dio vivente iscritto nella profondità del suo essere la santità manifesta le infinite possibilità in cui dio chiama l'uomo e se la chiesa non si stanca di proclamare i santi lo fa anche per ricordare all'uomo le sue potenzialità nascoste ed inesauribili la terza motivazione indica nei santi le figure della nostra speranza in essi è già compiuto ciò che per noi non è ancora realizzato essi sono la riprova che la promessa di dio è senza pentimento e viene a realizzarsi nella vicenda umana a chi è pellegrino nell'esilio il santo testimonia la bellezza della patria non per indurre a fuggire il tempo presente ma per viverlo con spirito e cuore di testimoni della speranza che anche nel dolore presente sanno tirare la pace e la sovversione del domani promesso e poché sempre viva la tentazione di rinunciare alla speranza e di perdere il senso che dà valore al cammino la sempre nuova proposta dei santi ha per la chiesa il significato di un sempre nuovo render ragione della speranza che è in noi nei santi risplende già la luce della meta da esse viene lo stimolo a credere nella possibilità umanamente impossibile che dio solo può realizzare